Allora, noi siamo il sesto gruppo, diciamo, brevissimamente. Perché io non voglio ringraziare nessuno, in realtà voglio abbracciare tutti quanti. In questi giorni molto intensi è avvenuto qualcosa di straordinario. Allora, siamo diventati tutti amici, abbiamo lavorato insieme con le professoresse, con voi, con tutti quanti, tutti i ragazzi. E in realtà quello che è accaduto è esattamente quello che è il nostro lavoro di teatro. Il teatro non è un pianeta sconosciuto, remoto, lontano, inaccessibile. Abbiamo fatto in questi giorni esattamente quello che in tanti anni, io, Micaela, tanti altri attori, facciamo sempre. Ci si incontra, ci si ritrova a discutere, a parlare di un testo e ogni volta che ci si accinge a mettere in scena qualcosa, ci si confronta, ci si parla, si discute, si ipotizzano soluzioni, si cambiano le parole, ci si scambia opinioni sull'interpretazione di un passo piuttosto che dell'altro. È esattamente quello che abbiamo fatto in questi giorni. Io, devo dire, sono rimasto assolutamente sorpreso, non soltanto dalla bravura dei ragazzi, io mi aspettavo di ritrovarmi di fronte a traduzioni così schematiche, un po' primitive, come quelle che tentavo di fare io quando facevo lo studente, lo studente scadente. E invece tutte queste traduzioni ci hanno molto sorpreso per la capacità creativa. Le abbiamo trovate molto creative, a tal punto tanto che qualche volta, come dicevano, cercavo io stesso di ricondurle verso l'originale, perché in fondo è quello che si cerca sempre di fare, cioè interpretare, capire che cosa l'autore, il poeta ha cercato di dire. Questo testo è veramente sorprendente, ogni volta che mi ci accosto e ci accostiamo, sorprende per gli angoli più remoti, i segreti più riposti che riesce a rivelare. E credo che questo sarà in futuro il nostro lavoro nella messa in scena di quest'opera. Tutto quello che è stato fatto in questi giorni dai ragazzi, noi lo porteremo nel nostro cuore, ma naturalmente lo porteremo e sarà sicuramente un arricchimento per il lavoro che andremo a mettere in scena e molte delle suggestioni che sono venute dalle loro traduzioni sono già state in qualche modo da noi recepite, ma ancora di più, credo, nel tempo, parlandone, discutendo, saranno ancora di più da noi assorbite, perché il lavoro di teatro è poi un cambiamento continuo, un assorbimento continuo. Il teatro è una cosa viva, non è una cosa lontana, non è una cosa morta. Il teatro è una cosa che si evolve quotidianamente, che sta al passo con i tempi, con la storia, con il ritmo della nostra vita e per questo io credo che sia bello e importante che una casa editrice come la Palumbo si avvicini, si occupi, cerchi di stimolare, cerchi di seguire, di cogliere, di captare anche il palpito di questo lavoro e spero che Mario non abbandonerà questa strada, che anzi si farà poi ancora di più leader nello studio di questi teatro, nello studio del teatro. Il teatro è un grandissimo strumento per la collettività, è un grandissimo passepartout per riuscire a comprendere meglio la storia naturalmente, ma il sentimento delle persone e quindi la progettualità anche di una società. e per quanto si cerchi di zittirlo, tanto più invece il teatro ritorna a far sentire la propria voce. Perché? Perché il teatro è l'espressione del cuore, del sentimento, della ragione, della cultura di tutti quanti noi. è quello che noi abbiamo cercato di fare in questi giorni, nelle poche ore a disposizione, abbiamo cercato di ricevere tutti i suggerimenti delle loro traduzioni, qualche volta tante cose le abbiamo raccolte, naturalmente abbiamo cercato anche di armonizzare tutto questo alla luce anche delle cose che ci siamo detti in questi giorni, qualche volta abbiamo anche inserito delle nostre indicazioni perché ci è sembrato che anche il sesto gruppo potesse partecipare a questo lavoro collettivo e quindi abbiamo cercato di trovare una sintesi, come dire, non soltanto intellettuale, ma fortemente umana del lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme in questi giorni. E per questo torno ad abbracciarvi tutti quanti. Sì, io volevo naturalmente dire soltanto due parole ai ragazzi, è inutile che dica, e che mi emoziona molto, questo rapporto. Io penso che noi abbiamo avuto poco tempo, data la grande difficoltà e la grande mole di lavoro che loro erano chiamati a sostenere. Naturalmente mi auguro che ci siano delle circostanze future più lunghe, ho potuto io personalmente essere di poco aiuto perché il mio lavoro è l'interprete, io sono soltanto una attrice. Ecco, quindi con tutto quello che di bello ma anche di riduttivo c'è in questa parola e quindi non potevo e non posso assolutamente mettermi a confronto con la grandezza, l'esperienza, la cultura di grandi maestri della lingua italiana e latina. Il primo giorno vi ho detto che speravo di conoscermi e di farmi conoscere anche. Non lo so se ci sono riuscita, forse non ci siamo riusciti perché c'è stato poco tempo, poi è molto difficile conoscere i ragazzi oggi perché sono giustamente chiusi e diffidenti, un po' diffidenti verso di noi che consegniamo loro una società non pulita, senza lavoro, senza denaro, senza amore. Penso però che voi ragazzi abbiate capito che io e Pagliano siamo due persone seri e che non siamo afflitti da quella retorica che giustamente vi irrita e che irrita tutti i ragazzi così come irritava noi quando eravamo ragazzi, solo che noi forse siamo stati, anzi senza forse, più fortunati di voi perché abbiamo vissuto la nostra giovinezza in un periodo più così, in un periodo di rinascita, di rivoluzione culturale e quindi in un periodo migliore e poi per ciò che riguarda me sicuramente perché io ho cominciato a frequentare il teatro a 12 anni e mezzo e quindi è Walter poco più grande di me, comunque abbiamo cominciato a frequentare il teatro molto presto e il teatro naturalmente è un clima, un luogo molto privilegiato. Ecco, detto questo io mi auguro che ci siano delle situazioni future più lunghe in cui perlomeno per quello che riguarda la mia professione io possa farvi capire, io o un altro attore anche, come la nostra professione è profondamente legata all'essere umano e come è importante per la comunicazione fra un essere umano e un altro essere umano. Perché dico questo? Perché noi, il nostro compito di attori, se qualcuno di voi deciderà di fare l'attore nella vita, il nostro compito di attori molto più del cinema, molto più della televisione, in teatro dove si studiano i grandi classici di tutti i tempi e quindi dove si studia sui grandi temi della solitudine, della disperazione dell'uomo e anche della felicità dell'uomo, però il nostro compito è di raccontare, di disegnare con la nostra interiorità, non con la nostra interiorità, cioè con il nostro modo di essere di tutti i giorni, ma con quello che noi nascondiamo dentro di noi, un'altra creatura, un'altra persona. Quindi il nostro lavoro è un grande momento di incontro fra una persona e un'altra persona immaginaria. Detto questo, io vi auguro una bellissima carriera, qualunque lavoro voi decidiate di fare. L'Italia attraversa un momento difficile, ma sta passando sicuramente, rinasceremo e risorgeremo e quindi voi avrete tutte le possibilità di lavorare. Vi chiedo, vi suggerisco di lavorare anche se desiderate di fare un altro lavoro. Nel momento in cui attendete di farlo, comunque di cercare di lavorare, perché il lavoro è il più grande amico che un essere umano, secondo me, possa avere nella vita. Il lavoro non ci abbandona mai e questo lo dico soprattutto alle ragazze, alle donne, a cui la società offre qualche volta la possibilità di dire, beh vabbè non lavoro, sto a casa, faccio altro. No, bisogna sempre lavorare perché il lavoro aiuta a sopportare tutto. Qualunque dispiacere, quando si esce di casa e si va a lavorare, sembra sempre un po' meno grave, un pochino meno grave. Quindi il lavoro ci dà la dignità e ci regala la nostra personalità fino a quando siamo vecchi, molto vecchi. Quindi in bocca al lupo e vi voglio molto bene, davvero.